E rieccoci su Let's Play Tomb Raider Procediamo Allora Vediamo dove ci porta questa corda Ah c'è un'altra di qui Statue da accendere Mancano due statue all'apperto Per completare la sfida Devo andare a vedere Arrampicandomi Ok 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 Accendiamo Accendiamo anche questa torcia Ok 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 un simpatico tesoro gps ha visto qualcosa la ragazza sto arrivando ti tirerò fuori da lì aiutami clara ti prego promesso promesso Sam oh no Sam Sam aiutami lasciatela bastardi no lasciatela ok dobbiamo andare a salvare la nostra amichetta togliamo di mezzo questa barriera eeeh si andiamo avanti non ho voglia di stare a fare troppi passaggi a ritroso dovevo vedere l'ampiezza del del dirupo cioè l'altezza più grande che cazzo è stato? ok wow bingo era bello pieno non fare uscire tutto è roba preziosa cazzo dobbiamo metterlo da qualche parte ok ok vabbè fatemi una magia eeeh eeeh vieni fuori ahhh 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 eeeh ebba la che cazzo succede là tu? ahhh ahhh vabbè volevo fregarli con la con la fiaccola non arriva nessuno ormai vediamo se riesco ad aggirare ok ma qua mi sa che c'è un intero accampamento di questi tipi bene bene devo essere più attento perché ma che mi serve aiuto c'è un intruso ovviamente volevo cercare di fare una qualche tipo di uccisione spettacolare tanto che non sia morto volevo fare quell'esecuzione con schivati c'è schivata più esecuzione niente mi tocca attraversare albito mi Ok Oh Haha Ahah, bello impalato Ok Di là, di là, di là Eh, non ci ho visto più niente, ragazzi Tutta quest'acqua in faccia non ho visto che cosa stava arrivando Ok 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 Non c'è nessuno. ma sicuro ecco guarda trova un kit di pronto soccorso Mannaggia. A bordo dovrei trovare qualcosa. Tanto prendiamoci questi materiali. Che male. Niente, dobbiamo cercarlo. Ah, non ce la fa. Mi fa troppo male. Che t'anfotto. Cadaveri. Chi va, il vecchio? Non so di chi stai parlando. Ti prego. Cazzate. Sei fuggito con lui. No. Ti prego. Mi chiedi con le idee. Termita! Termita! Oddio. Eh, ma l'ha. La festa è finita. Ai vostri quarti. Che succede alla festa? Il sovrano. Perdo la pazienza. Nuovo? La fissia del vecchio? No. È un osso duro. Ma non andrà lontano. Per gli altri. Siamo rinchiusi nelle caverne. Non credo. Perché padre Mattias non gli ammattia? Per la ragazza. Quelli volevano salvarla. Credo che le tenga in vita per minacciarla. Cazzo. Spero sia quella giusta. Sarebbe ora. Lo sapremo bene. La cerimonia è alta. Ok. Anzi. Mica tanto. Ok. Allora. Pistola. Silenziale. Questo è andato. Muori. Muori. Stop. Ha un'arma. Eh già. Ma mi sa che sono un po' trupe. come al solito cercare di fare cose particolari non aiuta. I vostri posti. Che succede? Il somalo. Verso la pazienza. Di nuovo. Notizia del vecchio. No. È un posto duro. Ma non andranno. Tipo quella la. Se io lo secco adesso. Non capisco. Per il padre Mattias non li ammattia. Tipo così. Quelli volevano salvarli. Credo che li tenga in vita per minacciarla. Cazzo. Spero sia quella giusta. Sarebbe ora. Lo sapremo presto. La cerimonia è al tramonto. Qui mi serve aiuto. Cazza puttana. No. 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 Bianca. Tignante. Vieni. Don. No. 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 Basta giocare. Ma non andranno. No. 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 ino. Quindi. Allora ragazza, quelli volevano salvarla. Credo che li tenga in vita per me. Si potrebbe andare direttamente di fucile a pompa. Grazie. Spero sia quella giusta. Sarebbe ora. Lo sapremo presto. La cerimonia è altra volta. Cosa? Ok. Ok. Merda. Ce l'avevo quasi fatta. A fare un assalto frontale. Che succede da te? Insomma, ha perso la pazienza. Di nuovo? Notizia del vecchio? No, è un osso duro. Ma non andrà alla volta. E gli altri? Li abbiamo rinchiusi nelle caverne. Ok. Perché il padre Massias non li abbandono. Per la ragazza. Quelli volevano salvarla. Credo che li hanno in vita per me. Cazzo. Spero sia quella giusta. Sarebbe ora. Lo sapremo presto. Lo sapremo presto. Quella miseria. Mi ha rinunciato. E' un po' Dio. Ormai. E' un po' Dio. E' un po' Dio. E' un po' Dio. Ce n'era ancora uno Ok, qua sto facendo una figuraccia Sì, andassi da pistolate? Credo che mi tenga in vita per me No, perché... Ovviamente non ce la fa Vediamo se riesco quello lì almeno No Ah, perché ovviamente Eh già Ok, ok ragazzi Alla fine ce l'abbiamo fatta Ce l'ho fatta Allora Dovevo cercare in quell'elicottero un kit di pronto soccorso Qua ogni salto è un'agonia Magari senza piaccola Gra E sta torcia Ma niente, proprio la torcia mi piace Non c'è verso Ma non credo proprio Se stai così fermo Sarà dura Ok Ok Non c'è Sì Non c'è Sì 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 Perdonami. Un accendino. 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 scappa, scappa, scappa e vala ok dai, giù qua mi sa che continuano ad arrivare, devo avanzare riparati riparati ah ce l'ho fatta? incredibile ora ci avrò milioni e milioni di materiali c'è anche un pratico falò che penso utilizzerò immediatamente ok ok ecco ecco una scatola da schiaffeggiare probabilmente potrò agganciare la corda da qualche parte da qualche parte tipo tipo ad esempio boh va bene questa zona la esplorerò meglio la prossima volta andiamo a... arricchiamoci all'accampamento altura altura elicottero allora il mitra è completato l'arco l'abbiamo completato anch'esso fucile a pompa ci manca la pistola è completa ok allora fucile a pompa l'impugnatura l'impugnatura è imbottita aumenta la stabilità dell'arma riducendo il contraccolpo aumenta la cadenza di fuoco aumenta la cadenza di fuoco incrementa i danni inflitti aggiunge una modalità di fuoco alternativa che riduce la disposizione della raffida per una agitata maggiore ok scelto perfetto bene ragazzi dopo questo episodio parecchio movimentato scelgo una buona postazione per salutarvi direi che non ci fossero quelle palle di elicottero questo sarebbe perfetto direi che così va bene ok ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao